Raccogliere fondi per acquistare un pulmino da donare ai bambini disabili africani è lo scopo della cena benefica in programma il 15 maggio nella nuova piazza di Villanova. L'evento è stato organizzato dal commerciante piacentino Walter Bulla e dalla locale Proloco che hanno deciso di sostenere la missione di Gianni Monadè e dell'associazione Domus. Il mezzo consentirà ai bambini diversamente abili che vivono in una zona montuosa del Kenya a 120 km da Nairobi di sottoporsi alla fisioterapia e di andare a scuola raggiungendo il centro di urno che verrà realizzato entro l'estate grazie all'impegno di alcuni volontari piacentini. Questo pullman che acquisteremo in Kenya sarà in utilizzo al centro di fisioterapia e centro di urno che è stato in via di definizione quindi per l'estate sarà pronto. Siamo a 120 km da Nairobi, un paesino sperso sulle montagne del Kenya in una missione gestita dalle suore delle piccole figlie di San Giuseppe di Verona. Io ho conosciuto brevemente, tre anni fa sono andato la prima volta per vedere, la seconda per capire e tre volte per agire. È impensabile che bambini vengano accompagnati quotidianamente per due ore sulle spalle, anche due ore sulle spalle e questo posso adorare. Il pulmino, la manifestazione che stiamo facendo, la raccolta di fondi serve per dare una speranza di cambiamento radicale nella vita di questi bambini. Spendo una parola alla mia proloco di Villanova perché si è messa a disposizione subito pensando di organizzare una cena benefica per poter acquistare questo pulmino che servirà ai ragazzi disabili in Kenya. Gianni è un personaggio che veramente merita tanto rispetto e chi ha possibilità di aiutarlo nelle sue iniziative fa del bene. Chi fosse interessato ad effettuare una donazione e acquistare i biglietti della cena può rivolgersi alla proloco di Villanova o alla sede di Bullasport in via Colombo a Piacenza. Grazie a tutti.